Sono le 4 e 28 di mattina di venerdì 17 giugno e i Golden State Warriors vincono il loro settimo titolo NBA nel segno di Steph Curry. Anche oggi credo 32 punti, davvero una prestazione superlativa, Andrej Godala, tutti i Golden State Warriors in campo vincere tre partite consecutive, si erano trovati davvero sul precipizio in gara 4, erano praticamente con le spalle al muro una prestazione da mostro, davvero il proprio MVP, se non gli danno il premio MVP di queste Finals, Curry completamente in lacrime commosso, lui ha 34 anni che sta riscrivendo la storia di questo sport meraviglioso. Dicevo appunto in gara 4, 43 punti, ha tenuto a galla i suoi Warriors, poi in gara 5 mi è piaciuto tantissimo perché ha dimostrato di poter vincere di squadra con lui che credo abbia fatto 0 su 9 da 3 e ha realizzato credo soltanto 16 punti, in quel caso è stato fantastico Andrew Wiggins e oggi, che dire, i Boston erano partiti alla grande, spediti, un vantaggio di 12 punti, ma poi c'è stata una reazione da campioni, hanno ammutolito il pubblico di casa, 19 mila spettatori, purtroppo si ferma a 16, a 17 il numero di titoli di Boston, lo so che aspettano dal 2010, tant'è vero che c'è il solito slogan, it's all about 18, riuscire a vincere contro la miglior difesa della NBA, non era facile, adesso Andrei Guadala che fa il cosiddetto pep talk to Jason Tatum, si abbraccia Steph Curry con Steve Kerr e anche col suo preparatore atletico, una partita fantastica, a un certo punto aveva realizzato 5 triple su 6 tentativi, una storia meravigliosa, gli avevano dati per finiti, dicevano che oramai non sarebbero più tornati quelli di una volta, il 13 giugno del 2019 si rompeva il ginocchio, legamento crociato Klay Thompson, dopodiché si sarebbe rotto il tendine d'Achille, Kevin Durant che lascia la franchigia, credo nel 2020 hanno vinto 15 partite nei playoff, scusate nel regular season non si sono neanche qualificati ai playoff, ma alla fine hanno ricostruito, hanno aspettato Klay dopo due anni e questi sono i risultati, hanno battuto nell'ordine Denver, dopodiché i Memphis che erano sicuramente una squadra molto molto competitiva, forse ha influito l'infortunio a Jean Morant, dopodiché contro i Dallas Maverick, vere e proprie rivelazioni a West che avevano fatto fuori Phoenix Suns e questa sfida dopo aver perso la prima in casa con un parziale di 40, credo a 12 nel quarto periodo, che insomma poteva ammazzare qualsiasi squadra, ma questi sono i Warriors, questo è Steph Curry, un giocatore straordinario che non avrà il fisico, l'esplosività di LeBron James, non avrà, non lo so, il carisma, quel ghiaccio che scorre nelle vene come Michael Jordan, ma è un giocatore che io adoro, davvero, 34 punti, 12 su 21 dal campo, una partita, 7 rimbalzi, 7 assist e in lacrime con il pallone sotto il braccio, una storia meravigliosa, hanno raggiunto 6 finali negli ultimi 8 anni, voi ditemi se questa non è una dinastia, al pari dei Lakers, dei grandissimi Magic Johnson e compagnia bella o dei Chicago Bulls di Michael Jordan, Scottie Pippen e Dennis Rodman. Adesso davvero quarto titolo nelle ultime 8 stagioni, hanno perso anche nel 2016 contro Cleveland, ma chi se ne frega, alla fine LeBron James ha reso storico un titolo e felice una città come appunto quella di Cleveland e dopodiché quel 2019 quando persero contro i Toronto Raptors una serie davvero sfortunata con Kevin Durant che recuperò si ruppe il tendine da kill, poi ve l'ho già detto di Clay Thompson, ma sono strafelice perché davvero non era facile da un punto di vista psicologico risollevarsi, dimostrare al mondo intero che non erano finiti, soprattutto con Draymond Green che nelle prime 4 partite non ha reso come lo conosciamo, ma poi da gara 5 soprattutto oggi è stato difensivamente pazzesco, un vero e proprio leader che si è, ha guidato i suoi compagni, grandissima crescita di Andrew Wiggins e come dicevo dopodiché anche Jordan Poole, il cosiddetto Poole Party, lui che in due partite ha segnato proprio sulla sirena e soprattutto credo in gara 75 in quel terzo parziale quando ha realizzato proprio all'ultimo istante il vantaggio 75 a 74, quello credo sia stata la svolta. Ripeto, non era facile giocare contro Boston, Boston che aveva buttato fuori Brooklyn Nets, ha buttato fuori i campioni in carica dei Milwaukee Bucks e aveva anche buttato fuori comunque in gara 7 i Miami Heat che erano praticamente i primi nella Eastern Conference, davvero fantastico, Andrei Godala è ritornato, credo per lui anche un record perché comunque sia quando è passato a Miami ha giocato nel 2020 le finali NBA c'è il grande Draymond Green che se la ride con la sua bimba, ma chi se ne frega molte persone avevano detto Draymond non è concentrato per il podcast, per il contratto che ha firmato con TNT, ma se questi sono i risultati ha fatto bene. Lasciatemi godere, bellissimo bacio di Steph Curry alla moglie, tutti che festeggiano, io che sono strafelice, è l'alba di questo venerdì 17 di giugno, ma chi se ne frega con tutta l'adrenalina che è in corpo, non avevo fatto nessun video a livello scaramantico durante tutte le finals, ma me lo sentivo che questa finale si sarebbe decisa in gara 6. Steve Kerr, un altro uomo straordinario, ricordiamo soprattutto le sue dichiarazioni dopo la partita con i Dallas Mavericks quando c'era stata la sparatoria in Texas, è un vero e proprio leader rispettato da tutti nello spogliatoio, sa sempre cosa fare al momento giusto, come dosare le parole e soprattutto come gestire un gruppo di campioni, perché questo è un gruppo di campioni. Draymond Green, Steve Curry, Klay Thompson e Andrej Guadala ottengono il quarto anello e titolo NBA nella loro storia, il settimo della franchigia dei Golden State Warriors. I love this game, let's go Warriors!